Nella pagina della Adobe Digital Edition troviamo le versioni di questo programma troviamo quella per Mac, troviamo quella per computer con Windows troviamo quella per dispositivi Apple, quindi parliamo di iPhone ed iPad e troviamo quella per tutti quei dispositivi che hanno Google Android quindi smartphone e tablet con questo sistema scarichiamo quindi la versione per PC Windows basterà una volta scaricata aprirla confermare l'installazione se ci viene chiesta la conferma confermare le condizioni di licenza come normale quando stiamo inserendo un programma confermare le scelte proposte per le cartelle e i nomi degli archivi e abbiamo fatto tutto quello che è necessario per avere il programma gratuito sul nostro computer confermando confine il programma viene aperto con la libreria nel nostro computer a questo punto abbiamo tutto quello che serve per aprire degli ebook pubblici gratuiti se dobbiamo aprire anche ebook che carichiamo da una libreria gratuitamente perché richiesti ad esempio da me da library online o da una biblioteca digitale oppure per aprire libri che abbiamo acquistato per abilitare il programma a leggere anche documenti protetti basterà inserire l'adobe di che ho indicato in video a parte trovate comunque tutti i riferimenti nella descrizione come attivare è un'utenza gratuita con una password nuova che possiamo attivare per abilitare il programma a aprire tutti gli ebook quindi inserendo questo adobe id basta andare nel menu aiuto autorizza computer inserendo qui l'utente e il password che abbiamo attivato gratuitamente come id adobe come utente adobe come abbiamo inserito il nostro utente il programma ci confermerà che il programma è autorizzato ad aprire tutti gli ebook abbiamo fatto tutto quello che ci serve per tutti gli ebook se ad esempio da me da library dalla biblioteca digitale scarichiamo un libro ci verrà scaricato un file che basterà aprire per avere sulla libreria del programma il nuovo libro che potremo inizialmente leggere per poi ritornare nella libreria quindi nella schermata principale e ritrovarlo tutte le volte successive un suggerimento ad utilizzare il programma è leggendo un ebook come le ferie d'agosto di Antonio Manzini andando nel melondettura potremo attivare il tutto schermo per leggere meglio l'ebook è tutto, alla prossima occasione, buon tutto